Abbiamo il bicchiere tre quarti pieno, guardo anche il terzo vuoto, nel senso che alcune criticità ovviamente ci sono ancora, sono legate in particolar modo appunto al reperimento di specialisti, sto pensando all'eucolistica, alla dermatologia, soprattutto sulle visite di controllo, ma si sta veramente lavorando proprio per arrivare ad abbatterle. Non si è riusciti ad azzerare le liste d'attesa, soprattutto quelle delle visite a 90 giorni, ma un grande passo è stato fatto. Nell'Ulss 6 e Ugania le prestazioni da erogarsi entro 30 giorni si sono ridotte del 90,4%, mentre quelle entro i 90 giorni del 64,3% rispetto al giugno scorso. La riduzione all'azienda ospedaliera invece è maggiore, le prescrizioni a 30 giorni abbattute del 100%, quelle a 90 giorni ridotte del 94%, un risultato che ha permesso di andare in aiuto delle altre realtà presenti sul territorio. L'impegno è a tutti i livelli, in tutte le aziende sanitarie e quindi ci diamo una mano tra aziende, in particolare Padova, che ha tutta una serie di specialità e di specialisti, come dire, affianca le aziende territoriali come quella di Padova, come quella di Belluno, come la 4, come la 6, come la 5, insomma, è un grande lavoro di squadra a livello della Regione del Veneto, che vede tutte le aziende impegnate. Oculistica e dermatologia sono tra i comparti che soffrono di più, questo anche dovuto alla difficoltà di reperire medici. Oculisti, dermo, gastro, neuro, speriamo però che adesso arrivino quelli che sono entrati in specialità qualche anno fa con l'allargamento appunto dei posti in specialità. Ora, da settembre, verrà utilizzata anche l'intelligenza artificiale per efficientare le prenotazioni. Non credo di dire un segreto, dicendo che da settembre riusciremo a mettere in campo una sperimentazione che vede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla presa in carico dei pazienti e l'intelligenza artificiale verrà utilizzata proprio per creare il percorso del paziente senza che lo stesso si debba muovere tra medico di medicina generale, specialista e CUP.